Ciao a tutti, sono Nicole. Oggi vi farò dimagrire ballando. Iniziamo la nostra lezione con un piccolo riscaldamento per sciogliere la testa e le spalle. Vado con la testa avanti, un giro verso destra e vado verso sinistra, un giro verso sinistra. Spalle, singolo, busto e vado a sinistra, avanti, lato, dietro, destra e ancora a destra. E avanti, sinistra, dietro, destra e vado a destra veloce e vado a sinistra veloce. Ancora a destra e a sinistra. Andiamo con il bacino, avanti, destra, dietro, sinistra, avanti, sinistra, dietro, destra. Ancora uno lento, destra e uno veloce. E vado a sinistra, e uno veloce. E vado a destra, e vado a sinistra, destra e sinistra. Busso, apro il petto e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo. E vado a sinistra, apro, chiudo, apro, apro, chiudo, apro e chiudo. Torno al centro. Iniziamo con quattro passi, due passi avanti, due passi indietro. E vai, destra, ancora destra, avanti, avanti, dietro, dietro. E poi con la sinistra, avanti, apro, chiudo, chiudo e vado a destra. e sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, adesso andiamo con un passo incrociato. Quindi apro destra, sinistra, destra e chiudo e guardo di lato e vado dall'altra parte. Sinistra, destra, sinistra e chiudo. Ancora. E chiudo. Vado, destra, destra, sinistra. Ancora. Ancora. Destra, sinistra. De, si, de, chiudo, si, de, si, chiudo, de. Sinistra. Avanti, sinistra, ancora. Avanti, sinistra, incrocio, de, sinistra, sinistra, sinistra. Ancora tutto. Destra, sinistra, destra, sinistra. Sinistra, incrocio, incrocio, ancora. Adesso il prossimo passo, faccio un passo con la destra, apro e chiudo. Apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. Un pochino più veloce. E vai. Cinque, sei, sette, otto da capo. Avanti, sinistra, 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 incrocio, 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 incrocio. Vai, apro, vai, apro, un po' avanti e dietro. Da capo. Ancora avanti. Quindi, incrocio, e apro, vai, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, e stop. Il prossimo passo, alziamo il ginocchio destro come se volessimo dare una piccola ginocchiata, alzo, ribatto destro e poi sinistro Quindi alzo e batto, destro e giù, e giù, destro appoggio giù, destro appoggio giù, destro appoggio giù, destro e sto E vado con la sinistra, ginocchio, colpetto col ginocchio, sinistro dietro e ribatto avanti, ginocchio sinistro, appoggio dietro e ribatto avanti Su, giù, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e sto, ancora lento a destra, su e giù Due, tre, quattro, cinque, appoggio giù, sei, sette, otto, sinistra Poi sarà veloce Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, cinque, sei, sette Ancora, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e sinistra Sette, otto, dal capo e sinistra Ancora, ancora, destra, sinistra, incrocio, 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 incrocio 4, 5, 7, 8, andiamo avanti, il prossimo passo, ginocchia divaricate, scendo e su, e sinistra, e destra, sinistra, destra, aiutate le braccia, sinistra, destra, sinistra, lo proviamo veloce, 6, 6, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da capo, e sinistra, destra, sinistra, incrocio, incrocio, ancora destra, e passo, 2, 3, 4, 5, 6, ginocchio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sinistra, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e vai, Benvenuti alla seconda parte della lezione di Magritte Ballando, iniziamo con una piccola marcia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tallone, sempre a massa leggero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, adesso il primo passo è questo, batto il tallone destro, come se volessi dare un calcetto, leggero, piccolino, destro, sarei attenti che è molto veloce poi, quindi destro, sinistro e doppio destro, stessa cosa a sinistra, calcetto e pallone sinistra, destra e doppio sinistra, ci siamo? E andiamo, destra, si, te, te, si, te, si, si, de, si, de, si, de, si, de, si, de, si, si, piano piano veloce, si, de, 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 si, de Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, ancora, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Andiamo col passo doppio, lo stesso passo di prima, però fatto due volte a destra e due volte a sinistra, quindi apro, chiudo, apro e giù, e apro, apro e giù, apro, apro, singolo, 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 dal capo, sinistra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, apro, singolo, apro, doppio, vaso, cambio. Allora il prossimo passo, iniziamo con un calcio avanti, uno laterale, sempre la gamba destra, incrocia dietro, apro la sinistra e ribatto avanti. È un pochettino difficile, ma avanti, lato, incrocio dietro, apro e giù, e poi con la sinistra, calcetto avanti, laterale, incrocio e giù, destra, apro, lato, incrocio, apro, giù, sinistra, apro, incrocio, apro, giù, apro, destra, apro, sinistra, apro, sinistra, un, due, testra, avanti, lato, incrocio, giù, e poi con la sinistra, un pochettino, Iniziamo tutto da capo, siete pronti? Siete, e destra, sinistra, destra, sinistra, destra, calcio, calcio, doppio, singolo, singolo, doppio, singolo, singolo, doppio, ancora. E vai, passo, giù, giù, doppio, certo, su, ancora. Ancora, vai, giù, avanti, lato, giù. Ancora. Justini. Pronti per l'ultimo passo? Iniziamo come prima. Quindi, calcio, destra, torno, apro, sinistra e torno. Quindi, apro, torno, batto, bacio, torno, sinistra, torno, destra, torno, sinistra, torno, veloce. Sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, calcio. Tutto a destra. Cambio. Sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. destra, pronti, rifacciamo tutto da capo, uno, c, sei, sei, calzo singolo, doppio, singolo, apro, 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 sinistra, destra, pronti per l'ultimo, apro, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, andiamo con l'ultimo passo, faccio un calcio avanti, calcio, ribatte sempre la destra e torno, andiamo sempre con la destra, e giù, apro, e giù, calcio anche il busto, up, giù, e giù, e giù, e giù, e giù, e andiamo con la sinistra, calcio, e scendo, calcio, sinistra, e giù, sinistra, sinistra, giù, sinistra, sinistra, giù, si, si, giù, si, si, da, si, si, da, pronti, andiamo a destra e a sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e sinistra, 5, 6, 7, 8, e destra, ancora, 5, 6, 7, 8, e destra, ancora, 5, 6, 7, 8, e destra, ancora, 5, pronti, rifacciamo tutto da capo, 1, iniziamo con i calci, 1, singolo, singolo, doppio, ancora, Apro, 2, 5, 6, pronti per il doppio, apro, giù, 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 e vai! Ancora, ancora, vai, gli ultimi due, passo diverso, sinistra, destra, sinistra, ancora, sinistra, destra, sinistra, ultimo, 2, 3, 4, 5, cambio, e facciamo tutto da capo, 5, 6, 7, 8, e giù, 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 avro, giù, 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 cambio, sinistra, sinistra, destra, destra, sinistra, sinistra, destra, destra, ancora, destra, sinistra, destra, sinistra, Ultimo, tre, cinque, sette, otto, sinistra, destra, sinistra. Andiamo col terzo brano, stelle pronti? Iniziamo con una piccola marcia, per sentire la musica, molto easy. Allora, il primo passo immaginiamo di aprire una porta. E fare un passo con la gamba destra, quindi apro e chiudo. Stessa cosa a sinistra, apro e chiudo. Apro e chiudo, apro e chiudo. Tutto il corpo. Possiamo andare avanti. E torno indietro. Torno. Ancora. Apro, apro. Dura nel braccio, eh? Dicite. Più corpo. Giù, 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 giù. Andiamo col prossimo passo. Parto con la gamba destra. La gamba destra incrocia dietro. Apro la sinistra e ribatto la destra. E vado subito a sinistra. Incrocio, sinistra, apro e batto a sinistra. E vado. Da, si, da, si, da, si. Pronti? Un pochino più veloce? 5, 6, 6, 7, e sinistra. Da, si, destra. Si, da, si, da. Veloce, simmo. E vai, e vai. E vai, da capo, apro, 5, 6, 7, 8 e vai. Andiamo avanti, adesso impariamo un passo un po' particolare, facciamo un giretto, un salto divarico le gambe, il secondo salto incrocio le gambe, la gamba destra va sulla sinistra, quindi da qua, apro, incrocio, guardo bene avanti e libero. Libero la destra, facciamolo lento, apro, incrocio, giro, 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 qui libero la destra che arriva avanti, ancora, 6, 5, 6, e su, rifacciamo lento, apro, incrocio, guardo un punto fisso e libero, facciamo tutto insieme. 5, 6, 7, 8, apro, 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 incrocio, giro, giro, giro. 5, 6, 7, 8, incrocio, giro, 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 giro. Ripasciamo tutto da capo. 5, 6, 7, e vai! Incrocio, ancora. L'ultimo passo, al posto della marcia, le ginocchia, insieme, da una parte e dall'altra. fermi con il busto, sento gli addominali, e apro, e scendo, apro, e scendo. Lavoro, eh, con gli addominali. Ancora. Ancora. Giro. All'altra parte. Pronti, rifacciamo tutto da capo. Iniziamo con la porta. 5, 6, 5, 6, 5, 6, e apro, apro. Incrocio. Ancora. Incrocio. Ancora. Vai. Incrocio. Dinocchia. Ancora, tutto legato, apro, 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 apro e incrocio. E giù, ancora, incrocio, guardo, ancora un altro salto, ginoccia, sento gli addominali. E giro, vai! Sinistra. Eccoci pronti per gli ultimi sforzi, iniziamo con una piccola marcia, dai che stiamo perdendo un sacco di calorie. Allora, il primo passo, ginocchio più alto di prima, quindi apro e giù. Apro, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Quindi pensate il gomito sul ginocchio e qui come se dessi un pugno, ok? E vado a sinistra, gomito e giù. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Andiamo un pochettino più veloce. Cinque, sei, cinque, sei, sette. E uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E sinistra, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E destra, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E sinistra, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E torno. Prossimo passo. Piccolino, ritorniamo sul piccolino. Calcetto, destra, ribatto e giù. Destra, giù, destra, giù. De, de, si, de, de, si, de, de, si, de, de, si. Si, si, de, si, si, de, si, si, de, si, si, de, si, si, de. Ancora. Cinque, ginocchio destro. E vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E piccolo. Sinistra. Destra. Sinistra. Destra. Vai, ancora che siamo agli ultimi sforzi. Cinque, sei, sette, sinistra e vai. Andiamo avanti. E il prossimo passo. Apro. Avanti, lato, chiudo e salto. E poi vado con la sinistra. Avanti, lato, chiudo, salto. 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 Destra, sinistra. Destra, sinistra. Ancora. Tutto saltato. Vai, dai. Desi. Siete pronte a ricominciare? E vado con il ginocchio. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Quattro, cinque, sei, sette, otto. E avanti. Destra. Tre, cinque, sei, sette, otto. Sinistra. Tre, cinque, sei, sette, passo nuovo. E ancora, vai. Uno. Vai ancora. Pronti per l'ultimo passo? Anzi, gli ultimi due. Questo lo abbiamo già ripreso prima, ma lo riprendiamo, che già lo conoscete. Destra, avanti, avanti. Lato, incrocio, apro giù. E sinistra. Lato, incrocio, apro giù. Destra. Sinistra. 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 Destra. Sinistra. Apro. Sinistra. Siete pronti? Ricominciamo tutto da capo? Vai il ginocchio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e sinistra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e avanti, destra, sinistra. Ancora, sinistra, gambe siete pronti? Apri, apro, apro, stop, su, 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 su e vai. Cambio, destra. E vai con l'ultimo, riprendiamo ginocchia come prima. Stop, 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 4, sul busto, 6, 7, 8 e cambio sinistra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai. Rifacciamo l'ultima volta, giusto da capo? 5, 6, 5, 6, 6, 7, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e destra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e sinistra. Cambio, 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 incrocio. Abro, incrocio. Grazie a tutti